Musica Questa sera siamo qui per vivere un momento di preghiera pieno di speranza Non deve passare questa generazione senza che il mondo sia almeno I segni dell'esistenza di madre, di solidarietà tra i primi tempi Passeranno, ma le mie parole non passeranno, quanto però a quel giorno o a quell'ora Il male non avrà l'ultima parola Contrariamente a quanto ricercato dall'odio che l'ha provocata Questa tragedia ci incita a rafforzare l'unità nazionale E la volontà di vivere insieme quale che siano le convinzioni o la religione di ognuno Ivoquiamo il signore della pace Per tutto il popolo francese, prions Credo che la consapevolezza dei rischi c'è Ma credo che sia anche, come dire, saggio Non cedere alle paure Prendere tutte le misure di sicurezza Perché forse bloccare qualsiasi movimento È quello che chi non vuole la pace desidera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.